Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Doppia festa di solidarietà con il gruppo podistico Avis Spinetoli Pagliare. Due gli eventi che hanno scandito la giornata. In primis la festa Sport Arte. 20 artisti dalle 9 di mattina hanno realizzato opere su tela e tra loro c'erano anche persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Che cosa rappresentava nel paesaggio? Colline ascolane che mi piacciono tanto. Sono stregata. Che origini hai signora? Sono di Kiev, di Ucraina. E questa giornata è stata meravigliosa perché unire l'arte allo sport significa valorizzare l'interno e l'esterno di una persona. Quello che dovrebbero fare tutti. E come hai vissuto questa giornata qui con l'Avis? Bellissima, sono contenta, molto grata di possibilità di passare questa giornata qui. Mi è piaciuto molto, sono bravissime, abbiamo fatto tanti complimenti già. I ragazzi dell'Avis sono stati stupendi, ci hanno seguito benissimo, abbiamo pranzato insieme e quindi fatto amicizia e ci siamo conosciuti. Dalle 18, l'arrivo della corsa di 20 ore per il ventennale del dinamico gruppo podistico e l'inaugurazione del monumento al podista installato a inizio della pista ciclopedonale. L'inaugurazione di questo monumento, diciamo, quest'arco che vediamo qui all'inizio della pista è realizzato con il nostro contributo ma con molto orgoglio e molto piacere. E in questa giornata abbiamo messo ovviamente l'arte, sposata allo sport, potremmo dire l'arte che corre tutto sommato. Abbiamo avuto la presenza di 17 artisti che ci hanno onorato di questo momento dove hanno realizzato delle opere. Una giornata di sport, solidarietà e arte ricordando sempre che per un donatore è bene avere mens sana in corpore sano. Grazie.